Ciao a tutti ragazzi, allora oggi in questo video voglio parlarvi di uno degli integratori che utilizzo ogni giorno per il mio benessere e fa parte appunto della mia routine degli integratori della giornata. Sto parlando del multivitaminico per donna. Questo prodotto è un integratore contenente vitamine e minerali studiati appositamente per noi donne e soprattutto per il nostro benessere. Questo significa che comprende al suo interno tutta una serie di vitamine, tra cui la vitamina A, la vitamina B, C, D eccetera eccetera e tutta una serie anche di minerali per esempio zinco, il manganese, il selenio, il rame eccetera eccetera. Questo prodotto non solo è importante come supporto fisico ma è altrettanto importante anche per il buon funzionamento del sistema nervoso e come supporto anche alla funzione psicologica. Sappiamo bene che per noi donne è fondamentale l'aspetto fisico ed è per questo che questo multivitaminico può aiutarci anche in questo in quanto oltre a tutte le varie funzioni ci può aiutare per il mantenimento di capelli sani grazie alla biotina e al mantenimento anche di unghie forti. Tra tutti i vari componenti che troviamo all'interno del multivitaminico troviamo anche l'acido ialuronico e il coenzima Q10. Ovviamente sono due componenti fondamentali soprattutto per la salute della nostra pelle andando a proteggere le nostre cellule dallo stress ossidativo. Ho deciso in questo video di parlare di questo prodotto in quanto penso sia un integratore fondamentale per noi donne e per le donne di qualsiasi età ed è per questo punto che ho voluto parlarvene. Spero che questo mio consiglio possa essere stato di aiuto a tutte le donne e ci vediamo al prossimo video.